Un anno fa il primo grado del processo sulla trattativa Stato-mafia ha portato ad una sentenza storica, pene pesantissime per i generali Mario Mori e Antonio Subranni e il colonnello Giuseppe De Donno del Rosse e per Marcello Dell'Utri, assolto invece l'ex ministro Mancino. Quella sentenza spiega che mentre Cosa Nostra faceva sette stragi tra il 92 e il 93 c'era una parte dello Stato che trattava con Totorina. Mori e De Donno si sono giustificati in dibattimento dicendo che incontravano Vito Ciancimino per acquisire informazioni su Cosa Nostra e per far finire le stragi. Quel dialogo, quella trattativa non evitò altro sangue, lo provocò. Marcello Dell'Utri, ex senatore di Forza Italia, sconta una condanna a sette anni per concorso esterno in associazione mafiosa, condannato in primo grado sulla trattativa 12, qual è il suo ruolo? Si fece intermediario delle richieste di Cosa Nostra al governo Berlusconi, già insediatosi nell'aprile del 1994 e addirittura fino al dicembre del 1994 Berlusconi fece arrivare centinaia di milioni nelle casse di Cosa Nostra. Quindi secondo questa sentenza abbiamo un presidente del Consiglio, un capo del governo italiano legittimamente insediatosi che paga Cosa Nostra. Questa trattativa iniziata dal vertice del ROS aveva mandanti politici? Era e rimane e la sentenza lo dimostra una trattativa politica.